Si è svolto a Roma, presso la Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio, un convegno intitolato La Nuova Comunicazione Politica, da Obama 2012 a Italia 2013. L'iniziativa è stata occasione per dibattere sul fondamentale contributo delle nuove tecnologie e dei social network in particolare all'attività politica dei nostri tempi. La rete, infatti, è uno strumento che ha fatto la fortuna del presidente Barack Obama e la ricetta nata oltreoceano sembrerebbe applicabile anche all'imminente campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento italiano. A fare gli onori di casa, oltre al vicepresidente della Camera Maurizio Lupi, i deputati Francesco Boccia e Roberto Rao. Sono intervenuti nel corso dell'evento, moderato dal giornalista Gianni Riotta, il presidente di Amerigo Antonio Amendola, il segretario generale di Enam Massimo Cugusi e l'ambasciatore americano in Italia David Thorn. Ha partecipato all'iniziativa, con un lungo discorso, anche Michael Slebi, funzionario capo per l'integrazione e l'innovazione del presidente Obama. L'incontro di oggi è tanto più interessante, non solo per conoscere l'esperienza affascinante che ha visto l'ultima campagna elettorale per le elezioni del presidente degli Stati Uniti, ma anche perché noi stessi ci accingiamo ad una campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento. E questa sarà anche per noi la prima campagna elettorale in cui, tra l'altro, entra prepotentemente il fattore politica legato alla rete, legato all'internet. Per la prima volta si candiderà un movimento politico che è nato nella rete e ha sviluppato tutta la sua azione attraverso la rete. Sbaglia chi pensa che comunicazione politica e comunicazione elettorale siano due cose diverse, siano due cose disgiunte. E questo lo ricordo soprattutto a chi non è abituato a vivere nel social network, a chi non conosce benissimo che cosa significa la vita reale e l'engagement online dei social network. La gente, una volta che si abitua alla trasparenza, una volta che si abitua a entrare nei palazzi, una volta che si abitua a guardarci in faccia in streaming, una volta che viene stimolata e crea empatia con i candidati online durante il periodo di campagna elettorale, pretende che lo stesso tipo di attenzione, lo stesso tipo di interazione, la stessa risposta da parte dei candidati, dei politici o dei responsabili della cosa pubblica venga onorata, rispettata e mantenuta anche nei periodi di non campagna elettorale. L'esigenza di trovare nuove forme di relazione tra chi governa e di cittadini è un problema della polis che non si può comunque rimuovere. Possono cambiare le forme. Il primo fenomeno che mi pare di scorgere è quello della disintermediazione progressiva del rapporto tra cittadini e leader, l'accorciamento del canale di comunicazione, la virtualizzazione delle relazioni che d'incanto diventano dirette con il capo. E se questo capo, che è dipinto ogni giorno con tutti i colori del web, si trasforma progressivamente come un quadro di Warhol in una icona pop, paradossalmente si fa anche più vicino a noi. Ci twitta all'orecchio i suoi pensieri, ci rassicura, ci spiega e ci racconta nel suo blog. È vicinissimo in ogni istante, ma è anche lontanissimo come un semidio. Il nostro paese ha già visto scorrere molta acqua sotto i ponti dei social. Tre dei nostri leader politici più noti, Grillo, Vendola e Di Pietro, risultano tra i cento più popolari nel mondo. I social media e i dati, Big Data, che è la realtà di ognuno di noi mette ogni giorno online, danno per la prima volta nella storia un mosaico perfetto, una fotografia 3D perfetta della nostra società, degli individui, dei grandi aggregati, di quello che consumiamo, dei nostri gusti politici, dei nostri orientamenti, delle nostre preferenze, delle nostre comunicazioni. E questo cambia la sfida della politica, perché la politica può decidere, la politica sa già come votano i cittadini, la campagna di Obama faceva migliaia di simulazioni di voto ogni giorno, quindi la politica sa già come voteranno i cittadini al momento di partire, quindi deve decidere quanto guidare contraddicendo l'orientamento popolare che conosce e quando invece assecondarlo. Grazie a tutti.